Il porto di Brindisi continua a ospitare navi da crociera di tutti i tipi e segmenti. Dopo l'arrivo della lussuosa Explora ha traccato presso la banchina Monte Catini lo splendido veliero da crociera Seaclude Cruises con a bordo 55 passeggeri assistiti da 60 componenti dell'equipaggio. Si tratta di una nave da crociera extra lusso, molto particolare a 5 stelle, che proviene da Corfu ed è diretta a Dubrovnik in Croazia. Contestualmente sulla banchina carbonifera nel porto interno ha ormeggiato la Seaburn & Core della Seaburn Cruise Line con a bordo 567 passeggeri e 421 componenti dell'equipaggio. La nave proviene da Catalon in Grecia e ripartirà come l'altra alla volta di Dubrovnik. Oggi addirittura dunque due navi da crociera contestualmente nell'apporto interno di Brindisi. Questa è una delle città che è cresciuta maggiormente sul piano del traffico croceristico anche se c'è la sensazione che si possa fare ancora qualcosa in più dal punto di vista dell'accoglienza. Il porto interno dunque ancora una volta ha presentato una cartolina da altri tempi. I passeggeri delle due imbarcazioni hanno visitato in ogni caso diverse località della provincia sfruttando soprattutto i servizi messi a disposizione dai tour operator del territorio.